Riprendiamo il telegiornale occupandoci dell'emergenza terremoto ad Haiti. La Caritas di Bolzano-Bressanone ha già avviato i primi aiuti d'emergenza. In pochi giorni gli altottesini hanno già dimostrato tutta la loro solidarietà. Dopo il devastante terremoto che ha colpito l'isola di Haiti e provocato oltre 100.000 morti è stata subito attivata la macchina degli aiuti. Anche la Caritas di Ocesi-Bolzano-Bressanone ha già inviato 30.000 euro per la fornitura di aiuti d'emergenza. La situazione rimane sempre gravissima e continuano le attività di aiuto condotte dai soccorritori, dai volontari e dagli operatori Caritas per aiutare i sopravvissuti, gente che ha perso tutto. Noi abbiamo una procedura per cui in situazioni di emergenza inviamo subito degli euro in modo da poter aiutare le persone per i generi di prima necessità. Evidentemente adesso la situazione lì richiede interventi tecnici che noi non siamo in grado di effettuare perché la nostra vocazione è altra. È chiaro che chiediamo alla popolazione la solidarietà che peraltro sta già arrivando in maniera molto concreta perché evidentemente rimettere in piedi Haiti dopo quello che è successo necessita di grandi risorse ma soprattutto di presenza nel tempo. Noi quando ci sono interventi di questa natura lavoriamo sempre in rete con la Caritas Internationalis. In questi giorni sono partiti dei colleghi di Caritas Austria che già sul posto stanno verificando quali sono le fattibilità di progetti di lungo periodo. Gli altoatesini come per l'Aquila dove i donatori sono stati 3.541 con 774.000 euro raccolti stanno dimostrando grande solidarietà nei confronti dei terremotati di Haiti. In soli tre giorni infatti in Alto Adige sono stati raccolti già 125.000 euro. Noi abbiamo sempre constatato di fronte a queste catastrofi una disponibilità veramente di livello eccezionale per cui credo che anche questa volta uso questo mezzo per mandare il ringraziamento mio personale di tutti i collaboratori Caritas ma dietro di me credo che ci siano i ringraziamenti delle persone che hanno avuto sostegno da questi aiuti.